Sono possibili i future modelle, spero per loro e anche per me, perché noi stiamo facendo una vera e propria ricerca di modelli in taglia 46-48, è un pre-casting. Destra, destra, ok? Lo facciamo come si deve? Perdonami, se non è una cosa, anche quando siamo tutte in fila, destra e sinistra e andiamo via, no? Spiegate a loro quali sono tutti i segreti, come devono camminare, dove si devono mettere. Nel momento stiamo cercando di fare del nostro meglio per capire soprattutto se c'è del materiale, è una ricerca, le istruzioni vengono date loro per capire se poi riusciamo a lavorarci sopra. Come ti chiami? Ciao, sono Fabiola. Quanti anni hai? 21. Tu oggi stai partecipando a questo casting di Ciao Magre, però mi hanno detto che hai partecipato anche a Milano, com'è andata? Sì, no, io a Milano ho passato il casting e adesso oggi sono qui come professionista, diciamo che aiuto a selezionare altre ragazze. Com'è stato a Milano? È stato difficile? Sì, però è stato anche molto emozionante e divertente. Sì, è stato molto emozionante e divertente.